E parliamo del Tempio di Segesta, dedicato a Afrodite Urania. Ce ne parla il direttore del Parco archeologico segestano, Rossella Giglio. Sappiamo questa notizia dal ritrovamento di un epigrafe. L'epigrafe si è trovata nel Cinquecento, quindi è più di Cinquecento anni che conosciamo questa informazione. Naturalmente ora viviamo in mondi diversi e quindi ho sentito l'obbligo di trasferire questa informazione nel modo delle comunicazioni attuali e quindi siccome il Parco archeologico di Segesta sta attrezzando tutta una serie di posti con questi nuovi sistemi di comunicazione in questi tempi diciamo così particolari, mi è sembrato importante descrivere i siti archeologici e anche parlare di queste notizie un po' più riservate agli addetti ai lavori. Perché la pietra, l'epigrafe, è conservata al Museo Civico di Calatafimi e si trova sempre addirittura per un certo periodo di tempo è stata murata in una parete di un edificio, di una casa di Calatafimi. Insomma ci sono tante storie. Perché si erano affidati a questa divinità? Intanto una divinità femminile, intanto una divinità che naturalmente si associa a quella che era venenata ad Erice perché il tempio di Erice era una divinità femminile che era Afrodite, che era Stat, che diciamo nel tempo cambia il nome ma comunque è sempre una divinità femminile che regna, che impera possiamo dire nei nostri territori. E quindi c'è un collegamento strettissimo anche con Erice, con questa tradizione degli Elimi. Insomma ci sono veramente aspetti molto particolari che possiamo approfondire. L'altra cosa importante da dire è che diciamo noi abbiamo l'informazione che il tempio non è stato mai completato perché il tempio non ha il tetto, le colonne non sono scanalate e non c'è traccia se non a livello di fondazione diciamo della cella, della parte centrale. Ma non è detto che non era utilizzato. Naturalmente ci sono vari sistemi per utilizzare un edificio e anche con sistemi precari che nel tempo si sono dissolti. C'era una sacerdotessa, il fratello che dedica la memoria diciamo in epigrafa onoraria a questa sorella che era la sacerdotessa di Afrodite Urania. E poi c'è questo mondo di uranio che mi pare bellissimo perché si aprono i cieli e quindi cose che noi abbiamo già fatto quest'estate programmando diciamo le attività di valorizzazione nella collina del tempio abbiamo chiamato oggi gli astronomi, abbiamo visto le stelle con i computer, con i telescopi. Insomma il mondo non cambia. Ecco io se posso fare una riflessione oggi in questi tempi così particolari a cui diciamo ci siamo attrezzati ognuno con il nostro bagaglio culturale, proprio bagaglio personale. Ci dà veramente la possibilità di riflettere su quelli che sono i veri valori e l'archeologia e se gesta è un valore perché la storia si ripete. Ho rivisto un video degli animali che si possessano dei territori. Ci sono occhi, antilopi, cervi, scimmie che girano i delfini nei morti. Perché la natura, la vita su questa terra continua con i suoi ritmi e quindi forse fermarci un po' e diciamo riflettere su queste cose è importante. Cosa ci lascerà come riflessione questa pandemia, questo coronavirus, questo Covid-19 a parer suo? Cosa ci insegnerà? Intanto ci siamo fermati. Porta delle gravissime conseguenze dal punto di vista economico, delle gravissime conseguenze dal punto di vista delle famiglie, delle vite umane. Questo è terribile. Io voglio fare qui un ricordo del mio collega, architetto Rizzuto, direttore del Parco archeologico di Siracusa che non è più con noi, della collega che non è più e di tanti colleghi che sono stati in prima linea e sul fronte di questo, diciamo, coronavirus. Ci insegna a riflettere, ci insegna a lavorare con serietà, con modestia, con la consapevolezza della vita umana e del valore della vita umana. Prima i valori fondamentali e poi tutto il resto. Prima i valori fondamentali e poi tutto il resto.